Bene, buongiorno a tutti, salve, io sono Simone Magazzini, sono il responsabile del Dipartimento d'Emergenza della Toscana Centro e vi parlerò brevemente di due disturbi associati all'esquilibrio acuti del diabete mellito, cioè la chitocidosi diabetica e la sindrome iprosmolare, quindi i due quadri associati ad un aumento della glicemia. Grazie a tutti. Cominciamo dalle definizioni. La chitocidosi è un'acidosi metabolica, ovviamente ha da un gap elevato in cui l'accumulo di acidi non volatili è legato alla presenza di acido acetacetico e beta-idossi butibico. Sappiamo che è un disturbo più frequente nel diabete di tipo primo, soprattutto nel giovane, è gravata da una mortalità non trascurabile, ma non altissima per fortuna. in molti casi, addirittura in un quarto dei casi, è la manifestazione d'esordio e, sebbene spesso sia legata ad una causa scatenante, qualche volta non si rilevano cause precise che provocano l'esordio. Invece la sindrome iprosmolare è una condizione diversa, la cui definizione deriva da una serie di parametri più che altro che si rilevano in corso di questa alterazione, che sono la glicemia sopra 400, una osmolarità maggiore di 315 milioosmolilitro e pH comunque sopra 7,3 se non è presente contemporaneamente una chetoacidosi e i bicarbonati sopra 15. Quando queste ultime due cose non ci sono e ci sono anche chetoni presenti, allora abbiamo la contemporaneità dell'iperosmolarità e della chetoacidosi, cosa assolutamente possibile nelle fasi più avanzate della chetoacidosi diabetica. Quali sono i fattori scatenanti o predisponenti che in questi pazienti diabetici possono far scatenare l'episodio acuto? I più famosi sono i farmaci, tra parentesi trovate indicato in quale delle due condizioni l'evento è più frequente, l'alcol, la scarsa adesione alla terapia, le infezioni, le malattie cardiovascolari, la pancreatite, traumi, ustioni, chirurgia e gravidanza. A seconda dei quadri cronici del paziente è chiaro che nel diabete tipo 2 dell'anziano le malattie cardiovascolari e le infezioni sono più frequenti come fattori scatenanti del quadro acuto, mentre la scarsa adesione alla terapia tipicamente è descritta come qualcosa che può favorire l'insorgenza della chetoacidosi nel giovane. Quali sono i sintomi e i segni di questi quadri? Che si caratterizzano tutte e due per un'insorgenza piuttosto graduale. Di solito l'anamnesi si raccoglie spesso dai parenti perché il paziente ha un'alterazione dello stato di coscienza se non un quadro flanco di coma e quello che ci viene riferito è che questa persona negli ultimi giorni in qualche modo ha perso peso, beveva in continuazione e urinava parecchio. Queste sono cose che più o meno semplici vengono riferite, qualche volta vanno chieste semplicemente perché magari il familiare è più concentrato sull'evento acuto, ma se si interroga con attenzione di solito viene fuori questo quadro di questo paziente che aveva continuamente bisogno di bere e che andava in bagno in continuazione e che si è progressivamente asciugato. Questo è quello che succede. L'insorgenza dell'alterazione dello stato di coscienza di solito è graduale, progressiva, non è improvvisa, non è un quadro che fa pensare a un quadro neurologico primitivo e poi ovviamente se il fattore scatonante era la febbre piuttosto che un quadro neurologico o cardiovascolare ci saranno i sintomi della malattia di base. Questo è il quadro di solito che ci viene riferito. Questi pazienti appunto si presentano con un quadro di deterioramento del sensore che può essere di entità variabile fino a uno stato di coma anche abbastanza profondo. Nella chetoacidosi ci sono anche i segni dell'acidosi grave, quindi la tachitnea in parte per il compenso dell'acidosi e poi fino al quadro del respiro periodico di Kusmaul. Il colorito spesso rimane eroso e a volte hanno un dolore addominale crampiforme che è legato a un epifenomeno che accompagna la chetogenesi che è la liberazione di questa prostaglandina E2 che ha questo effetto sia di vasodilatazione del ciclo cutaneo che di causare questi dolori crampiforme addominale. Il paziente invece con la sola sindrome di perosmolare senza chetoacidosi hanno dei segni di disidratazione, cioè il colorito non è rosio ma sono pallidi, freddi, eccetera, segni chiari della disidratazione per la perdita di liquidi. Quello che guida la gestione di questi quadri dall'inizio e per tutta la gestione direi dello scompenso acuto è l'emogas analisi che ci permette non solo la diagnosi ma anche di guidare i nostri interventi soprattutto nella chetoacidosi. I reperti sono quelli che vedete riportati qui nello schema, il pH ovviamente sotto 7,3, la CO2 nettamente ridotta e ovviamente bicarbonati, base excess come in un'acidosi metabolica con anion gap elevato. L'anion gap appunto è il primo a muoversi, è il primo che si altera, è il primo valore che comincia a salire quando si sviluppa questo quadro. Invece nella sindrome iperosmolare ovviamente la gasanalisi è più generica, tutte le gasanalisi ci fanno, dipende dalla malattia di base e troveremo reperti compatibili con quello che sta succedendo al paziente. Ovviamente tutti gli emogasanalizzatori che utilizziamo nei pronto soccorsi riportano anche il valore della glicemia che è quella che ci permette di fare da subito la diagnosi. Infatti noi cosa troviamo? Troviamo una glicemia alta come reperto di lavoratorio sempre, di solito è sopra ai 300 nella chetoacidosi, si dice per definizione deve essere più di 400 nella sindrome iperosmolare, in realtà spesso è un'evenienza abbastanza comune per chi lavora in dipartimento d'emergenza e i valori sono molto più alti. Gli elettroliti, il sodio di solito noi dovremmo trovarlo basso per il noto effetto dell'osmotico del glucosio, un valore normale di glucosio nel sangue corrisponde all'effetto osmotico di 5 miglia equivalenti di sodio, quindi in condizioni normali quando sale la glicemia si genera la nota iponatremia fittizia, no? Si dice. Il problema è che siccome il glucosio funziona anche come diuretico osmotico e provoca una perdita di acqua libera nel lungo andare, la perdita di acqua libera supera questo effetto osmotico sostitutivo del sodio e alla fine del glucosio e quindi alla fine il valore del sodio per l'emoconcentrazione può risultare normale o addirittura elevato e qualche volta molto elevato. La situazione non è tanto diversa per il potassio, lo vedremo un pochino meglio più avanti, noi perdiamo sempre potassio in queste condizioni, abbiamo pazienti che hanno per l'effetto osmotico del glucosio perdono potassio con le urine regolarmente. L'acidosi tira fuori a sua volta il potassio dalle cellule dove è 30 volte più concentrato e quindi abbiamo un drive continuo che tira fuori potassio dalle cellule e una volta portato nel tuo dente circolatorio lo filtra e lo elimina per via renale. Quindi tutti i pazienti con la sinome prosmolare e soprattutto con la chetoacidosi perdono potassio in quantità anche rilevante. Lo possiamo trovare apparentemente normale o addirittura aumentato a seconda dello stato di disidratazione. Altre cose che possiamo trovare agli esami del sangue di routine che facciamo all'ingresso in pronto soccorso sono un emocromo compatibile con l'emoconcentrazione indotta dalla disidratazione, valori di creatinina che possono essere giustificati anch'essi dalla disidratazione o peggio da un'insufficienza pre-renale nelle fasi più avanzate in cui la pressione di perfusione renale sia compromessa. E poi ci sono ovviamente i chetoni nella chetoacidosi che sono l'esame diagnostico. È sufficiente cercarli nelle urine, non è necessario fare dosaggi nel sangue ed è sufficiente lo stick, è sufficiente diciamo l'esame semi quantitativo perché non c'è una relazione strettissima fra quanti sono loro e quanto è grave del quadro clinico. Ci serve avere dalla presenza dei chetoni nelle urine in quantità abnorme la diagnosi di chetoacidosi. Poi ci servirà alla fine la scomparsa dei chetoni nelle urine come segnale di cessazione del percorso patogenetico che mantiene la chetoacidosi. Ecco il dosaggio dei chetoni ci serve all'inizio per la diagnosi e alla fine per la conferma di aver conseguito il compenso della situazione. Non c'è un monitoraggio da fare graduale e continuo. Veniamo alla nostra terapia. Abbiamo visto il nostro paziente in pronto soccorso con il suo quadro clinico e con un'emogas analisi compatibile e poi abbiamo confermato con lo stick la presenza dei chetoni o comunque abbiamo confermato un quadro di iperosmoralità e quindi si deve procedere alla terapia. Parlo delle due sindrome insieme perché sto parlando degli interventi diciamo a comune. Vediamo quali sono gli obiettivi. Gli obiettivi sono più di uno perché abbiamo un paziente gravemente disidratato quindi dobbiamo reintegrare i fluidi, su questo non c'è dubbio, dobbiamo ridurre l'osmoralità, dobbiamo aumentare, dobbiamo ridurre la glicemia, correggere il pH soprattutto nella chetocidosi quando è gravemente alterato, correggere gli elettroliti ed eventualmente iniziare a trattare la causa scatenante. Ecco da questa immagine volevo solo far notare quanto l'insulina agisca solo su due dei nostri obiettivi cioè sull'osmoralità e soprattutto sulla glicemia, mentre una corretta espansione volemica agisce su quasi tutto quello che ci interessa. Una gestione diciamo corretta e adeguata della volemia ci porta nella direzione globale della gestione dell'osquilibrio acuto del diabete, più dell'insulina. Veniamo alla gestione quindi di questa espansione volemica, di questo reintegro di liquidi. Noi ci dobbiamo porre tre quesiti, quanti liquidi fare, quali utilizzare e in quanto tempo somministrarli. Sono le tipiche domande che ci facciamo in questo caso. Questa diapositiva riporta l'unica formula che credo ci serva in questo caso per tutta la gestione di questi pazienti è il calcolo dell'osmolarità. L'osmolarità può essere anche misurata ma la gran parte dei laboratori ti dà la risposta con tempi abbastanza lunghi e quindi come strumento di monitoraggio ti serve poco e tutto sommato questa formula è abbastanza affidabile e quindi ci permette di con la sola emogas analisi ripetuta nel tempo di monitorare il paziente. Quello che vediamo è che in genere l'indicazione è che si fa nella prima ora un litro, un litro e mezzo di bolo di liquidi con soluzione fisiologica che poi andrà dosata e modulata continuamente sulla base dell'evoluzione dei valori emogas analitici. Poi faremo qualche esempio. Quello che dobbiamo ricordare quando calcoliamo l'osmolarità del paziente con questa formula è che ogni punto percentuale di osmolarità che il paziente ha guadagnato a causa dello sviluppo del suo quadro clinico corrisponde a un punto percentuale dell'acqua corporea totale persa che noi sappiamo essere circa il 60% del peso corporeo. Quindi cosa vuol dire? Se una persona ad 80 kg, è un caso di qualche anno fa, si presenta con 135 di sodio, 5 di potassio e 1.400 di glicemia, noi otteniamo dal calcolo così come lo abbiamo descritto prima con la formula un valore di 357 come valore di osmolarità. Quindi un'osmolarità aumentata di quasi 60 punti sul 300, cioè del 20% circa. Come vedete si può calcolare in maniera anche così approssimativa, non dobbiamo correggere i singoli millilitri. Bene, un incremento del 20% dell'osmolarità corrisponde alla perdita del 20% dell'acqua totale corporea che in un uomo ad 80 kg è circa 50 litri. Il 20% di 50 litri significa 10 litri. Ecco, 10 litri è l'acqua libera che noi dobbiamo restituire a questo signore o a questa signora durante la nostra terapia, al netto delle perdite che continuerà ad avere, della perspirazione, di tutto quello che continuerà a fare mentre noi lo curiamo. Ecco perché i familiari spesso ci dicono è dimagrito, non è dimagrito, ha perso 10 kg perché ha perso 10 litri di liquidi in pochi giorni. Questo è quello che dicevamo all'inizio. In rapida sintesi si riesce nella grande maggioranza dei casi a lavorare con la sola soluzione fisiologica variando la velocità di infusione sulla base dell'andamento come vedremo fra poco. Qualche volta quando il paziente è ipernatremico o quando l'anatremia sale rapidamente durante la correzione può essere necessario utilizzare l'ipotonica avendo l'accuratezza di rallentare la velocità di infusione. Solo quando abbiamo bisogno di continuare un minimo a idratare il paziente, abbiamo già raggiunto però una situazione sostanziale di equilibrio, allora possiamo utilizzare la soluzione glucosata tamponata. Non ci sono indicazioni di utilizzare altri liquidi diversi. Quali sono? Terza domanda. In quanto tempo si fa tutto questo? Una volta capito quant'acqua gli dobbiamo dare e più o meno quali sono le nostre soluzioni da utilizzare. In quanto tempo? Diciamo che una volta intrapreso il percorso del miglioramento non stiamo facendo l'angioplastica o la trombolisi, stiamo facendo una terapia che può richiedere tempi, anzi deve richiedere tempi anche piuttosto lunghi. Comunque il paziente può solo migliorare mentre noi lo trattiamo se il trattamento è efficace. Viceversa un trattamento troppo rapido può generare due ordini di problemi che sono legati da una parte all'eventuale problema di congestione polmonare, ARDS, edema polmonare o altro a seconda del quadro di base per un generico fluido overload e poi c'è il problema specifico dell'edema cerebrale soprattutto descritto un po' in letteratura dai pediatri quando si corregge troppo in fretta un quadro grave in un diabetico pediatrico, tra l'altro con una prognosi pesante. La regola generale è che se si riesce a far scendere l'osmolarità a una velocità che sia intorno alle 3 miliosmoli litro, dopo l'effetto dei boli della prima ora, quindi nella fase di mantenimento, il sistema dovrebbe essere in silenzia. Questo per quello che riguarda i liquidi. Poi abbiamo la terapia insulinica, insulina pronta, somministrata per vena. La dose iniziale è quella che vedete scritta lì sopra, non ci sono evidenze di un bolo iniziale, anche se quasi tutti lo fanno, quasi tutti lo facciamo, mi permetto di... con quel paziente dell'esempio di prima con 1.400 di glicemia mi ricordo di averglielo fatto il bolo, anche se forse fa bene più al medico e al paziente, però è vero che, insomma, non c'è un'indicazione specifica, anche se spesso viene fatto. Nel paziente che parte con valori di potassio bassi, deve essere procrastinata la terapia insulinica, si comincia solo facendo il potassio e facendo i liquidi e poi si inizierà l'insulina quando siamo sicuri di non provocare un'ipocaliemia e non siamo in grado di controllare. La glicemia, come l'osmolarità, deve scendere, ma deve scendere gradualmente, io ho riportato quello che si trova indicato nelle linee guida, sono i 150 mg, non oltre, di calo glicemico orario nei pazienti che partono a un valore molto, molto alto. E poi, appunto, quando la glicemia scende sotto i 300, si può iniziare anche a fare l'insulina tamponata invece dell'insulina in infusione normale. Finché ci sono che torni nelle urine, è bene mantenere un'attenta sorveglianza del paziente, mentre quando il processo di chetogenesi si è interrotto, allora il paziente potrà ricominciare la propria terapia di base. Va bene, questi sono alcuni esempi, sempre sul paziente iniziale su cui abbiamo provato la formula del calcolo dell'osmolarità, il paziente che ha fatto il suo carico idrico iniziale, poi ha iniziato un'infusione e ha fatto l'insulina, bolo iniziale e poi ha fatto l'infusione secondo le dosi che ci siamo dette, ecco questo paziente immaginiamo che a un'ora abbia 140 di sodio, 4,5 di potassio, la glicemia che è scesa di 300, però ha fatto il bolo sia di insulina che di liquidi e quindi un calo superiore ai 3 l'ora ci va anche bene. Vediamo cosa succede dopo un paio d'ore, ho formulato alcune ipotesi, sono astrazioni, esempi che faccio io. Se dopo due ore avessimo avuto un calo dell'osmolarità da 350 a 336 e un calo della glicemia di circa 300 potremmo dire che la glicemia è scesa normale ma è scesa troppo rapidamente l'osmolarità e allora forse vale la pena vedere se per caso non stiamo andando troppo veloci con i liquidi. Se invece il sodio sale, la glicemia è scesa normale ma l'osmolarità cala poco forse dobbiamo valutare se il trend si mantiene di passare all'ipotonica perché la nostra terapia gli sta facendo salire troppo il sodio. Se invece come nell'ultimo esempio la glicemia manifesta di non rispondere all'infusione di insulina e addirittura l'osmolarità è più alta che all'inizio, quel paziente resiste alla nostra terapia insulina e ha bisogno di un dosaggio più alto. Questo è quello che con questi esempi ho cercato di raccontare su come si deve bilanciare l'infusione di insulina e di liquidi mentre si cerca di riequilibrare una situazione di questo tipo che comunque può richiedere parecchie ore per tornare alla normalità. Il bicarbonato, la dose solita che facciamo per tutte le acidosi metaboliche non dimostra di avere una straordinaria utilità. Non è il diavolo ma è vero che è uno di quei trattamenti che sono in qualche modo soggetti a variazioni di moda a seconda delle generazioni. Quando abbiamo cominciato a lavorare in emergenza, alla fine degli anni 90, a metà degli anni 90, si faceva il bicarbonato a dosi enormi su qualunque quadro clinico che prevedesse un po' d'acidosi anche sull'arresto cardiaco alla cieca, se ne facevano dosi molto alte. Oggi si usa con più cautela. In questi casi specialmente dovremmo ricordare che comunque peggiora l'ipocagliemia e comporta un carico di sodio non necessariamente trascurabile a seconda delle condizioni specifiche, basta ripensare agli esempi che ho fatto poco fa. Il potassio. Il potassio invece è un must in questi pazienti, soprattutto nei pazienti con chetocidosi in fase piuttosto avanzata, per quella drive continua che c'è verso la perdita di potassio. Di fatto dai 3 ai 12 mila equivalenti pro chilo di potassio si perdono sempre in queste condizioni, anche quando dal sangue non si vede e quindi dobbiamo, i meccanismi sono quelli riportati in questo schema, non solo il meccanismo dell'acidosi e della contemporanea presenza di un diuretico osmotico provoca una perdita enorme di potassio, ma la terapia stessa, l'insulina e il bicarbonato, quando lo facciamo, accentuano la perdita di potassio, non a caso sono i cardini della terapia delle ipopotassie. Quindi in questi casi dobbiamo comunque pensare a una supplementazione di potassio, che non è necessario farla per forza fin dall'inizio anche a chi ha un potassio nella norma, soprattutto se il quadro non è molto avanzato e si riesce ad avere un monitoraggio stretto, però va tenuto conto di monitorarlo comunque sempre, di non iniziare l'insulina se il potassio è già basso all'inizio e di dover mettersi nelle condizioni, magari procurandosi precocemente un accesso al noso centrale, mettersi nelle condizioni di doverlo supplementare. Non ci sono indicazioni a fare altri farmaci in senso stretto, però è vero che una cosa che accade a questi pazienti regolarmente è di avere un quadro di iperdiscosità, perché hanno un ematorrito molto alto, essendo molto disidratati, e quindi se si immagina un allettamento non breve, valutiamo l'ipotesi di non copilarsi per la tromba in voi. Le misure di monitoraggio sono queste, noi dobbiamo monitorare ovviamente i parametri vitali, ma anche la diuresi oraria, il pH, gli elettroliti, la glicemia e l'osmolarità calcolata. Quindi si tratta di avere un accesso vascolare, meglio se arterioso, ma non necessariamente, per continuare il calcolo dell'osmolarità e valutare elettroliti e glicemia regolarmente. Concludo, dove vanno questi pazienti? In qualche caso vanno in rianimazione, quando c'è bisogno di proteggere le vie respiratorie con l'intubazione o quando il quadro per la patologia di base magari o per le condizioni generali del paziente è particolarmente impegnativo e si prevede comunque una progressione di malattie. Quando invece si pensa di poter gestire uno squilibrio idroelettrolitico e del pH e basta con un ripristino, quindi successivo, di condizioni accettabili, allora il paziente può stare in HDU e purtroppo a volte sta di fatto in pronto soccorso anche per molte ore, fino a raggiungere parametri abbastanza normali. È un modo antipatico di chiudere questa presentazione, ma devo dire che se il paziente ha bisogno di controlli ravvicinati, ha una linea arteriosa, ha ancora un quadro di stabilità emodinamica non brillante, le nostre strutture ospedaliere non prevedono nella grande maggioranza dei casi la possibilità di trasportarlo in medicina e quindi lo dobbiamo gestire su letti o di subintensiva o di pronto soccorso fino a ottenere un quadro sufficientemente stabile da poter andare in medicina interna. Questo è una rapida sintesi sui punti che secondo me rimangono fondamentali nella gestione di queste sintomi. Grazie dell'attenzione.